come state leggendo da queste immagini la nostra premier Giorgia Meloni è stata minacciata sui social ecco le parole veramente orribili dette nei suoi confronti ma soprattutto anche nei confronti della sua bambina a rivelare le minacce proprio alla premier alla figlia Ginevra è un account twitter che riporta così una raccolta di tweet macrabi con minacce di morte verso il presidente del consiglio e la figlia fratelli d'italia ha tenuto a specificare che questa raccolta di post social aumento nel clima di odio suscitato proprio dalla rappresentazione delle linee di governo e maggioranza contro il reddito di cittadinanza sono arrivati poi tanti post a favore di Giorgia Meloni tantissime tantissime persone tantissime vice premier che abbracciano Giorgia e sua figlia per queste gravi minacce subite parole tristi dicono di molto odio e sono anche preoccupanti Giorgia Meloni e la sua famiglia dice invece Ronzulli ci sono cattivi maestri che vanno in piazza a dire cose non vere qualcuno sta alimentando questo clima sta armando la mano di qualcuno e poi ancora le minacce a Giorgia Meloni non sono rivolte al presidente del consiglio ma tutta la politica per questo bisogna unirsi nel respingerle con fermezza al mittente queste le parole di pier ferninando casini su facebook tutti ovviamente a favore di Giorgia Meloni grazie a tutti